Sarebbe potuta essere una Pasqua dolce per i risparmiatori scottati dal decreto salva banca del 22 novembre scorso, ma invece potrebbe lasciargli l'amaro in bocca. Dopo le notizie degli scorsi giorni riguardanti un possibile aumento del platform del fondo di solidarietà per gli indennizi ai risparmiatori a 280 milioni, rendendo così superflui gli arbitrati, arriva uno schiaffo ai risparmiatori. Il mancato passaggio in consiglio dei ministri del decreto che avrebbe permesso ai bondisti subordinati delle vecchie banche di ottenere risarcimenti. Il provvedimento di fatto è stato rimandato e dalla Commissione dell'Unione Europea di Bruxelles non è arrivato l'ivia libera. Secondo quanto riporta il giornale nell'articolo di Antonio Signorini, le direttive dell'Unione Europea prevedono espressamente l'arbitrato e giorni fa rispondendo all'interrogazione del vicepresidente dell'Europarlamento Antonio Tajani, il commissario alla concorrenza aveva confermato che il governo italiano era in trattativa per attivare questa procedura, poi è spuntata la soluzione di un rimborso per tutti ed è arrivato lo stop dell'Unione Europea. L'ostacolo è più nel merito che nel metodo mantenere gli arbitrati, magari a maglie larghe, sarebbe stata una strada più utile per i risparmiatori, ma meno efficace dal punto di vista della comunicazione. Banca Italia fa sapere che sarà un esperto indipendente a valutare in maniera definitiva il valore delle sofferenze cedute dalle quattro banche in risoluzione alla Bad Bank. Sulla vicenda già spesso posiziona anche il Kodakons. Renzi e Cantona avevano garantito che entro marzo sarebbero stati definiti criteri relativi ai rimborsi per i risparmiatori, ma dal governo arrivano solo bugie e inutili perdite di tempo che danneggiano gli investitori, denuncia il presidente Kodakons Carlo Rienzi. Sembra quasi che si voglia rimandare alle calende greche la decisione finale sugli indennizi, scaricando le responsabilità sui limiti imposti dall'Europa, così da far cadere in prescrizione i possibili rimborsi. Intanto i riflettori si sono sposati a Pontassieve, dove i risparmiatori sono nuovamente scesi in piazza a protestare, assenti alla manifestazione i membri dell'associazione Vittime del Salvabanca, che nei giorni scorsi hanno fatto sapere di non aderire all'iniziativa in conseguenza ai tragici fatti di Bruxelles.